Un consuntivo positivo, quello esposto dal comandante della stazione dei Carabinieri di Oristano, il colonnello Erasmo Fontana, nel corso dell'annuale conferenza stampa di fine anno. Numeri che testimoniano un'attività svolta con impegno nei vari settori, come la prevenzione e la repressione di reati in materia di furti, frodi e violenza. A fronte di questa ripresa, aspettata da tutti sinceramente, di tutte le attività economiche e soprattutto sociali, l'attività di controllo del territorio, l'attività preventiva e l'attività repressiva ha segnato numeri positivi sia in termini di valori prettamente numerici ma anche di qualità. Abbiamo avuto degli incrementi nei furti scoperti che sono indicativi di quanto il servizio preventivo e l'attività di indagine abbiano portato i risultati commisorati proprio alla ripresa delle attività sociali. Non abbassiamo mai la guardia, ci sono dei fenomeni che dobbiamo monitorare e quando riusciamo anche a intercettarli dobbiamo anche reprimere. Dobbiamo evitare che situazioni di disagio sociale possano portare a reati molto 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 più gravi ed ecco che allora in una comunità fondamentalmente anziana dobbiamo far sì che questo tipo di questa fascia di cittadini sia sempre tutelata e non oggetto di condotte fraudolenti, quale truffe, truffe online oppure anche intromissioni fraudolente nella loro vita, sfociabili in furti, rapine o in alcuni casi omicidi. Riusciamo a fare sistema, riusciamo a fare squadra e ognuno a portare il suo mattone ma anche la sua attività a conoscenza degli utenti.